Un mese di concerti iniziato oggi per la ventesima edizione del Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago. La rassegna festeggia i 20 anni con un intenso programma di musica da camera, lirica, swing and soul, nei 14 concerti in programma da oggi e fino al 4 settembre. È una lunga storia di musica e di emozioni quella del Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, giunto al traguardo, come detto, della ventesima edizione e sarà un anno da ricordare con ben 14 concerti, un programma ancora più ricco e vario iniziato oggi e che si concluderà il 4 settembre. Il Festival è uno dei più interessanti di musica da camera di tutta l'Umbria, organizzato dal comune di Castiglione del Lago e sempre con la preziosa direzione artistica di Marzia Crispolti Zacchia, che lo ideò nel 2005, mossa dall'amore per la sua terra d'origine. Un amore sempre vivo nonostante che la Marchesa risieda in Svizzera da tantissimi anni. Un amore coniugato alla perfezione con un disinteressato mecenatismo. La presentazione ufficiale ha avuto luogo sabato nella sala del teatro di Palazzo della Cornia. I sindaci passano ma quando un'idea è forte si radica e soprattutto c'è una trascinatrice straordinaria come Marzia Crispolti Zacchia. Il lavoro del comune è più facile, ha detto il sindaco Matteo Burico. Il Festival di Musica Classica è una creatura che è cresciuta nel tempo. Castiglione è un piccolo comune ma investiamo tante risorse sulla crescita culturale. La scuola di musica del Trasimeno è solo il primo esempio ma abbiamo le mostre qui a Palazzo della Cornia, un'intensa stagione di eventi alla Rocca Medievale. Il nuovo cinema caporale, gli eventi di Natale con l'albero sull'acqua, un dinamico tessuto associativo unico nel territorio e si potrebbe fare, ha detto il sindaco, un lungo elenco. Oggi però voglio ringraziare Marzia che ogni anno ci dimostra concretamente l'amore che ha per Castiglione del Lago e tutte le sue frazioni.